Guarda, arriviamo da un periodo importante di carico di lavoro e siamo negli ultimi giri di orologio prima di iniziare il campionato. Questo test con l'Africa Catania è molto importante per valutare a che condizioni siamo, sia fisiche che tecniche. Aspetto a un incontro molto atletico, molto intenso che poi comunque valuterà anche quello che sarà la stagione, che sarà una delle nostre dirette concorrenti e la fascia siciliana è quella più vicina a noi. Guarda, stiamo lavorando molto dal punto di vista atletico nella prima parte, poi adesso che ci stiamo avvicinando soprattutto al campionato, stiamo andando anche con il coach e tutto lo staff tecnico. Stiamo andando molto bene dal punto di vista atletico e in campo ancora abbiamo qualche defezione, ma solo perché ci sono sette persone nuove, quindi aggregare sette persone a un sistema di gioco completamente nuovo è un pochino più difficile. però archimia giusta, gruppo giusto, sia fuori dal campo che in campo, dobbiamo solamente adesso stringere ancora un po' la cintura per arrivare più pronti possibile al campionato.